Nel dicembre scorso la Banca Popolare di Bari è stata posta sotto commissariamento. Da quel momento purtroppo la situazione si è ulteriormente complicata. Da prima abbiamo presentato attraverso il collega Mariani una risoluzione in commissione, oggi abbiamo presentato un'interpellanza al Governatore Marsilio e all'Assessore Febbo. Purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta e questi mesi sono trascorsi inutilmente senza nessuna azione da parte della Giunta regionale. Tanti operatori di quella banca purtroppo rischiano di perdere il posto di lavoro, tante filiali rischiano di essere chiuse e soprattutto il servizio sul territorio, in particolar modo sui territori terramani e pescaresi, saranno ridotti ulteriormente. È incredibile l'assoluta assenza e soprattutto la mancanza di impegno della Giunta Marsilio e dell'Assessore Febbo. Nel momento in cui si tratta di aumentare lo stipendio dei manager, dei direttori, dei dirigenti, magari anche con gli arretrati, fanno molto molto in fretta. Quando si tratta di ripristinare le risorse per i rimborsi degli assessori, cosa che avevamo abrogato nella scorsa legislatura, anche in questo caso deliberano molto in fretta. Quando al contrario si tratta di dare risposte ai lavoratori, è il caso della Cassa Integrazione Inderoga, o ai lavoratori oggetto di profonde ristrutturazioni e sostanzialmente di esubero, come è il caso della Popolare di Bari, il governo regionale è puntualmente assente su ciascuna delle partite più importanti e più rilevanti della nostra regione. Questo è il punto. L'assenza di oggi dimostra non solo una mancanza di visione per quanto riguarda la nostra regione, ma anche purtroppo una mancanza di vicinanza e i problemi veri della nostra terra. Assistiamo, come hanno detto i colleghi, purtroppo anche oggi all'assenza dell'assessore Febbo e di tanti della maggioranza, del Presidente Marsiglio, su temi importanti. Si è parlato oggi di sanità, di quella sanità della periferia, si sta parlando appunto della Banca Popolare di Bari, di quale futuro per le filiali, per il personale e naturalmente tutto questo con l'assenza del governo regionale, che non ha avuto nemmeno la dignità, come spesso accade negli ultimi mesi, neanche di confrontarsi e di dire come la pensa. Dopo gli annunci dei primi mesi, ormai assistiamo allo scappa-scappa generale, al fuggi-fuggi generale. Quindi noi continueremo a battagliare, a combattere per il nostro territorio, sperando che ci siano delle risposte, perché esigiamo delle risposte che dobbiamo dare ai nostri cittadini abruzzesi. Grazie.